Arrivata la 36esima Sagra della Castagna a Summonte, il 13 e il 14 ottobre, due giorni all'insegna della natura, del passato e delle prelibatezze irpine. Come arrivare a Summonte da Napoli, autostrada 16, uscire ad Avellino Ovest, seguire le indicazioni per Mercogliano in direzione Montevergine, arrivate ad Ospedaletto d'Alpinolo, proseguire sulla strada statale 374 sino a Summonte. In bus autolinea AIR, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Avellino. La sera di venerdì 19 ottobre il Napoli Busker Festival trasformerà Via Toledo in un grande palcoscenico a cielo aperto. La centralissima Via Toledo ospiterà tutti in una notte, giocolieri, sputafuoco, clown, musicisti, disegnatori, ballerini e tanti altri artisti. Come arrivare a Via Toledo da Napoli, da Piazza Garibaldi, linea 1 della metropolitana, in bus, linea NMR2. Nel fantastico borgo di Teano, sabato 13 e domenica 14 ottobre, le caratteristiche strade del borgo saranno invase da delizi e sapori. Nell'ambito dell'evento Cioccolateano, oltre alle degustazioni, ci saranno laboratori artistici riservati ai più piccoli, degli scioserali e l'apertura delle visite dei musei e dei luoghi culturali cittadini. Alla manifestazione parteciperanno maestri cioccolatieri e produttori artigianali di buon cioccolato provenienti da tutta la regione. Come arrivare a Teano, autostrada 1 Roma-Napoli uscita a Cajanello, dopo 700 metri svoltare a destra e proseguire per Teano. In treno stazione di Teano, linea Roma-Napoli via Cassino. Parte la ventiduesima mostra a mercato del tartufo di Colliano. Il 12, 13 e 14 ottobre, nell'incantevole scenario offerto dalle suggestive vie del centro storico di Colliano, si ripeterà l'immancabile appuntamento con il profumo e il gusto del tartufo nero di Colliano. Non solo prodotti tipici, ma anche artigianato e tanta buona cucina. Come arrivare a Colliano, autostrada 3 per Salerno, autostrada 2 sino all'uscita di Contursi Terme e Postiglione, poi strada statale 691 sino a Colliano. In bus da Napoli, bus Italia-Campania. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Contursi Terme. Torna il 32esimo raduno internazionale delle Mongolfiere, dal 12 al 14 ottobre, a Fragneto-Monforte. Anche quest'anno è possibile volare in Mongolfiere, il tutto contornato da spettacoli folk, da artisti di strada, buon cibo e tanto divertimento. Come arrivare a Fragneto-Monforte, da Napoli, autostrada 1 con uscita a Caserta Sud-Maddaloni, poi Montesarchio-Benevento, oltrepassare Benevento, prendere direzione Campobasso, uscita Fragneto-Monforte. In treno, linee Trenitalia, stazione Fragneto-Monforte. Segnalateci i vostri eventi all'indirizzo eventi at muoversi.regione.campania.it.